L'azzurro del cielo mancava a causa delle nuvole, ma in compenso a tingere di celeste la giornata di domenica sono state le divise dei ragazzi del Timbar Blanco di Lovere, accorsi sul porto turistico insieme a tantissimi altri amanti delle due ruote per un'occasione davvero speciale. Si tratta della seconda mini Gran Fondo Paolo Savoldelli, sfida di ciclismo organizzata dal team di Giuseppe Cretti per raccogliere fondi per la ricerca contro la fibrosicistica. Fa piacere dare una mano per risolvere qualche problema, per raccogliere dei fondi per la fibrosicistica anche perché oltre a praticare dello sport questi ragazzi riescono a svolgere una vita normale, cosa che tanti anni fa non riuscivano a fare. Ospite d'onore della giornata era sicuramente il Falco di Rovetta, ma insieme a lui tanti altri big dello sport non hanno voluto mancare alla manifestazione. Presenti alla partenza si trovavano infatti Elena e Nadia Fanchini e al via, pronti a scattare in sela alle loro biciclette, c'erano Marco Serpellini e Niovanotti e il campione bergamasco Marco Pinotti. Quest'anno avevo raggiunto la convocazione mondiale anche su strada e ero convinto di fare una bella cronometro. Quindi penso che se le cose vanno quando devono andare l'anno prossimo posso essere ancora di più protagonista e cercare di prendermi quello che quest'anno un mal anno mi ha portato via. Prima dello start vero e proprio gli organizzatori hanno voluto riservare i dovuti festeggiamenti a Claudio Cretti, che a luglio a Chiavari si è laureata campionessa italiana esordiente in 1997. La giovane ciclista, vestita della maglia tricolore, ha ricevuto a Costa Volpino una targa dalle mani dell'assessore allo sport Luigi Bettoli e gli applausi di tutti i partecipanti alla Mini Gran Fondo. I percorsi previsti erano tre. Il più breve, quello di 4 chilometri attraverso gli abitati di Lovere Costa Volpino, ha visto soprattutto la partecipazione di bambini e famiglie, mentre la maggior parte degli iscritti ha scelto di proseguire e affrontare i tracciati più impegnativi. Giunti a Riva di Solto, i più hanno continuato la gara fino a Tavernola, dove ha preso il via la salita verso Cambianica e la scalata del Gran Premio della Montagna. Il primo classificato, che ha bissato il successo dello scorso anno, è stato Ivan Valtolini, seguito da Mario Meris, primo tra gli esordienti 96. Tra i 97 la vittoria è invece andata a Giacomo Cretti, seguito dal compagno di squadra Niccolò Brescianini, mentre tra i più piccoli a spuntarla è stato il giovane campioncino Andrea Vaninetti. A chiudere la giornata le premiazioni, poi musica, giochi e un pasta party aperto a tutti, in compagnia di Paolo Savoldelli e dei tanti campioni giunti all'over per una giornata di sport, divertimento e solidarietà.